Ci siamo fatti questi chilometri, tra l'altro arrivato a un certo punto non si capisce più niente per le strade, ma penso che ci siamo abituati. Un traffico ad uscire dalla città, un traffico nell'autostrada, poi l'autostrada Palermo-Catania interrotta, poi per arrivare a Gela che le indicazioni non c'erano. Io mi credi? Non vedo l'ora che fanno il ponte così si risolvono tutti i suoi problemi perché non ce la faccio più.